Salve a tutti e benvenuti nel canale di pensioni e aggiornamenti. Come avevamo già annunciato nei nostri video precedenti, ad agosto alcuni pensionati riceveranno un piccolo aumento sulle loro pensioni. In molti si stanno chiedendo se ciò avverrà anche a settembre. Vediamo dunque tutti i dettagli in questo video. Prima di visionare il video, come sempre, vi invito ad iscrivervi al canale e a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Vi invito inoltre a lasciare un mi piace in questo video per supportare il canale. Naturalmente è tutto gratuito. Come dicevamo alcuni pensionati riceveranno un piccolo aumento sulla pensione ad agosto. Infatti in questo mese molte pensioni saranno maggiorate. Per quanto riguarda infatti le pensioni di agosto, ad esempio chi ha presentato la dichiarazione dei redditi tramite il 730 con sostituto di imposta avrà un trattamento differenziato rispetto agli altri. Infatti con tale metodo, colui che è interessato otterrà nella busta paga o nel cedolino il conguaglio delle imposte previste nel prospetto di liquidazione del 730. Per i pensionati ricordiamo che il tema conguagli 730 è diverso da quello dei lavoratori. Infatti per questi ultimi il mese interessato è quello di luglio. Per i pensionati, come abbiamo appena detto, il mese di agosto. La retribuzione però per alcuni pensionati potrebbe arrivare addirittura a settembre, quindi o in agosto nel mese successivo il pensionato potrà aspettarsi il rimborso del credito di imposte 730 oppure in caso negativo una trattenuta sul debito di imposta. E anche per oggi è tutto, se non l'avete già fatto vi invito nuovamente ad iscrivervi al canale e a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Grazie per l'attenzione al prossimo video e un saluto a tutti!